Grazie all'accordo raggiunto tra Regione, Assofarm e Federpharma, a partire da lunedì nelle farmacie comunali e private si potranno effettuare i tamponi rapidi. Dopo i sierologici rapidi, all'interno delle farmacie arriva dunque un nuovo strumento utile per la ricerca e la prevenzione al Covid-19. Nelle nove farmacie comunali di Pesaro e in quella di Gabicemare è possibile già da oggi prenotare il test, che però dovrà essere svolto in autonomia dall'utente sotto la supervisione del farmacista. Il tampone, il cui esito arriverà pochi minuti dopo averlo effettuato, è rivolto a tutti i soggetti asintomatici che negli ultimi giorni non hanno avuto contatti stretti con persone positive al Covid. Da oggi è possibile prenotare in tutte le farmacie comunali gestite da Aspes, Pesaro e Gabicemare anche il tampone antigenico rapido. Come è possibile prenotarlo? È possibile prenotarlo attraverso il numero 0721 37 24 73, è un numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Si tratta quindi di un autotest dove il cittadino farà il tampone in autonomia, sempre ovviamente sotto la supervisione del farmacista. Il test è costituito da un tampone che sarebbe un batuffolo di cotone un po' più lungo. Verrà inserito all'interno della cavità nasale circa 5-6 cm all'interno della cavità. Dovrà essere, una volta in situ, il paziente dovrà ruotare questo test in modo tale da prelevare il più possibile materiale biologico. Il tampone verrà messo all'interno della provettina con un reagente, verrà fatto reagire per qualche secondo e dopo verrà inserito all'interno di una piastra due o tre gocce di questo reagente in modo tale da andare a vedere la positività o la negatività di questo tampone. Si tratta quindi di un tampone qualitativo, quindi andremo a vedere la positività o la negatività del virus. È molto importante questa iniziativa in modo tale di andare a creare uno screening più completo per la cittadinanza in modo molto rapido. Riusciamo a vedere quindi la diffusione del virus. Importante quindi andare a scoprire eventuali asintomatici che si nascondono all'interno di amici e familiari. Nel momento in cui il tampone rapido dovesse risultare positivo? Nel momento in cui il tampone risultasse positivo il collega farmacista attiverà, avviserà quindi l'Asur di competenza che nel giro di qualche giorno effettuerà il tampone molecolare. Nell'arco di questo lasso di tempo è strettamente consigliato al cittadino e al paziente un isolamento domiciliare. Qual è il costo? Il costo è di 18 euro, quindi un costo molto calmerato per permettere quindi uno screening di massa. Nelle farmacie è attivo anche il servizio di prenotazione per il vaccino riservato in questo momento alle persone over 80. Sì, quindi c'è una doppia possibilità. Il cittadino può chiamare il numero verde 800 00 99 oppure recarsi qui in farmacia e il farmacista assisterà alla prenotazione del vaccino.